Un è abituato a pensare alla scuola come quattro mura e non come a una cosa che ti può spingere oltre, diciamo. I corsi che noi proponiamo, liceo delle scienze applicate e liceo sportivo, sono entrambi innanzitutto dei licei scientifici. Cosa ti dà la scienza? La scienza ti dà innanzitutto un modo, un metodo di affrontare la realtà. Io amo introdurre gli argomenti di fisica a partire da problematiche concrete. Parliamo del momento della forza, ma perché ragazzi faccio meno fatica se spingo una porta muovendola dalla maniglia che non dai cardini? Questi hanno una ragione che la fisica può spiegare, questa cosa è appassionante. È una scuola molto difficile, ma che ti sprona sempre a far meglio. Poi soprattutto nel mio caso, che faccio anche sport a livello agonistico, i prof cercano di aiutarmi a fare bene le due cose, sport e studio. Noi riteniamo che l'esperienza sportiva dei ragazzi abbia già di per sé un valore educativo. Viene chiesto ai ragazzi di entrare in profondità nelle cose che studiano. La passione è necessaria per studiare, anche quando magari non ne hai voglia oppure sei stanco dopo un allenamento. È necessario che trovi nello studio qualcosa di importante per te. Non studio più per un voto o per dare soddisfazione ai miei genitori o ai miei professori. È la differenza tra aprire un libro e buttarlo via, che è credere che in quei libri si parli di te. La cosa che a me colpisce sempre molto è che pur essendo in classe, a volte i muri sembra che non ci siano. Cioè, i ragazzi portano dentro quando si lasciano coinvolgere tanto di loro. Prima di tutto, la persona che mi trovo di fronte non è un mio professore, ma è una persona. È una persona che è stata messa lì per il mio bene. Ho scoperto di voler insegnare insegnando. Mi sono trovato quasi per caso a scuola ed è stato amore a prima vista con i ragazzi. Accompagnare i ragazzi vuol dire farsi compagni di una strada. Guardare il ragazzo che sia davanti per quello che è, con i bisogni che ha, con le fatiche che ha. Saper osservare quali sono le azioni che mettiamo in atto e come i ragazzi rispondono. Personalmente mi sono sentito guardato in un modo diverso rispetto alle scuole da cui venivo. Il fatto che siamo tanti docenti giovani per me è un grande valore aggiunto. Per vari motivi, innanzitutto tra noi c'è una grande stima. Per cui il confronto su che cosa è successo in classe, in quella tal ora, con quel tal ragazzo, tra noi è serrato. Mi sento un cantiere in lavorazione, però assistito. Cioè, non sono da solo in questi cambiamenti. E poi, a me personalmente, e credo di condividerlo con tanti colleghi, appassiona il fatto di partecipare alla costruzione di un'opera educativa. È come se i ragazzi fossero spinti a confrontare questa loro domanda su cos'è la bellezza, cos'è il desiderio, cos'è la giustizia, cos'è la verità, cos'è la felicità, con le risposte grandi e le domande grandi che hanno dato gli autori nei secoli. E questo porta, innanzitutto, a un allargamento della domanda loro. Un rapporto per me fondamentale è quello con i genitori. I genitori per noi non sono degli utenti. Sono persone che ci stanno affidando ciò che hanno di più caro, che hanno uno sguardo privilegiato sul ragazzo, e che quindi possono offrire sempre un punto di vista prezioso che apre lo sguardo a tutti. È dentro questa collaborazione che si può educare. Un ragazzo diventa grande sia davanti persone con lo sguardo grande. Gli strumenti sicuramente più importanti con i quali io sono uscito da questo liceo sono sicuramente stati la conoscenza della lingua inglese. Amiamo dire che per noi l'inglese è una seconda prima lingua. E soprattutto in generale il modo di affrontare un problema che mi si pone davanti e cercando il modo migliore per superarlo. Io, diciamo che stando qui, ho capito che quello che voglio veramente per me è essere felice. Grazie a tutti.